Ente Palio, torneo di calcio dei Rioni 2017, Amplen del Rione Portella, entrambe vittoriose le squadre del torneo maschile e femminile. Il Rione Portella domina l'edizione 2017 del torneo di calcio tra i Rioni, disputatosi per la prima volta il campo sportivo di Borgo 1 maggio, con la collaborazione dell'ACD Bastia 1924. Il Rione, capitanato da Stefano Lombardi, si è giudicato sia il torneo di calcio a 8 maschile che quello di calcio a 5 femminile. A farne le spese in entrambe le finali il Rione Moncioveta, Amplen anche nei premi individuali con il titolo di capocannoniere maschile vinto da Vincenzo Ravo e femminile vinto da Chiara Proietti. Il titolo di miglior portiere maschile ha visto primeggiare Pietro Rosignoli, mentre in quello femminile è stata Carmela Mancini. Marco Gnavolini, presidente Entepalio, ha dichiarato Ringrazio l'ACD Bastia 1924 per la preziosa collaborazione ricevuta. È stata un'esperienza positiva sotto tutti i punti di vista. Vedere quest'edizione dalla numerosa e calorosa partecipazione degli atleti e di tutti i tifosi dei Rioni è stato esaltante. Il livello agonistico del torneo sta migliorando sensibilmente di anno in anno ed è un piacere vedere tanti talenti bastioli confrontarsi con spirito sportivo ed agonistico elevato. Un torneo in continua crescita se si pensa che solo tre anni fa, una volta che le ragazze avevano finito le loro partite, passavano le magliette ai ragazzi che giocavano dopo.